Bravo sei, in silenzio radio. E ovviamente approfondiremo tutte le notizie sul mondo di Call of Duty uscite sia ieri che nel corso di questa mattina. E passate a visitare la mia pagina di Instagram e di Telegram per tutte le notizie in tempo reale sul mondo di Call of Duty. Partiamo subito con CodeMobile perché vi faccio vedere una nuova immagine della nuova mappa Saloon che come sapete arriverà nel corso della Season 6 in questo mese di maggio. Vi faccio vedere di più sempre in merito a CodeMobile perché da oggi sarà disponibile la modalità tutti contro tutti. Dal 15 di maggio invece saranno disponibili sia il duello uno contro uno che l'evento con la mappa Saloon. Ringrazio il mio amico Morda Blast per la notizia. Vi faccio vedere due immagini veramente molto divertenti ma soprattutto una molto interessante che arrivano dal web. Innanzitutto quanto sarebbe bello vedere questo titolo nella versione rimasterizzata. Ringrazio Thunder appunto per questa creazione della copertina. Sarebbe veramente un sogno nel cassetto. Ma soprattutto vi faccio vedere come ultimamente il titolo sta prendendo dei risvolti molto hot con Alex Zedra alias Mara. Ringrazio sia Kezzat che Mr Drevek di Reddit per le immagini. Veramente molto ma molto divertenti. Ieri ha parlato un noto leaker. Come sapete prima dell'uscita del titolo e della Bat Royale TGR aveva svelato che per il futuro del titolo sarebbe arrivato il codice creatore. L'avevamo anche parlato. C'era stato anche un video informativo diversi mesi fa. Come accade ad esempio su Fortnite che serve per supportare i content creator di Call of Duty quando appunto qualcuno compra un bundle, un operatore o qualcosa del negozio. Ad oggi ancora non ci sono notizie nonostante in queste ore ne sta parlando nuovamente il leaker Oremi che si chiede che fine abbia fatto questa funzione. Quasi a confermare nuovamente che prima o poi arriverà all'interno del gioco ma soprattutto all'interno di Warzone come aveva appunto legato qualche mese fa TGR. Ieri il CEO di Blizzard ha annunciato e ha pianificato di assumere più di 2000 impiegati nel corso del prossimo anno. Ovviamente non abbinate le assunzioni ad un Call of Duty perché quando si parla di assunzioni di Activision Blizzard i titoli che ci sono all'interno appunto del Calderone sono veramente tantissimi. Però sicuramente qualcuno andrà all'interno appunto di questo pacchetto di sviluppatori. Ieri sera come annunciato ieri mattina è arrivato l'aggiornamento patch interna, aggiornamento delle playlist del multiplayer disponibile su tutte le piattaforme con le seguenti novità. Gioco delle armi furioso spostato nel filtro partita veloce. Introdotta nuovamente guerra terrestre molti di voi la cercano per completare delle sfide soprattutto quella con i carri. Introdotta la vecchia casa galleggiante con il mosfet delle mappe Rust, Shipment e Shoothouse. Presenta adesso il bundle con Iskra il nuovo operatore che completa appunto il pacchetto della season 3. Adesso dobbiamo soltanto aspettare per settimana prossima l'arrivo della mappa multiplayer Ardat di MV3 che completerà tutto l'iter della season 3. Ieri sera o meglio nella notte è stato introdotto inoltre un nuovo aggiornamento nella sicurezza del titolo. Infatti è stata inserita l'autenticazione con sms a due fattori per tutti i nuovi utenti pc che accedono al titolo appunto della Battle Royale. Questo è tutto quello che ve volevo dire nel nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Ci vediamo alle 13.30 in live su Twitch e tutte le ultime notizie come sempre Instagram e Telegram. Mentre appuntamento con noi domani ore 7 qui su YouTube con un nuovo TG Code. Grazie a tutti.